È appena arrivata una triste notizia per tutti gli amanti della musica italiana. Addio al grande cantante! Ma prima di raccontarti i dettagli di cosa è successo, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie per il supporto. Dopo 50 anni di una carriera leggendaria, costellata di successi senza tempo e riconoscimenti internazionali, Umberto Tozzi, l'iconico cantautore italiano, ha annunciato il suo commovente addio alla scena live, con uno straordinario tour mondiale. Intitolato L'Ultima Notte Rosa, The Final Tour, questo viaggio epico attraverserà tre continenti, toccando il cuore di fan in tutto il mondo nel corso del 2024 e 2025. L'annuncio di questo addio tanto atteso è arrivato in modo sorprendente il venerdì 15 marzo al Teatro L'Olimpia di Parigi, una delle sale da concerto più prestigiose al mondo. Questo luogo, carico di storia e significato per Tozzi, sarà anche una delle tappe fondamentali del tour, che prevede oltre 30 spettacoli indimenticabili in location mozzafiato. Tozzi, con la sua voce inconfondibile e il talento senza pari, ha conquistato il cuore di intere generazioni, riempiendo stadi e arene in tutto il mondo con le sue esibizioni indimenticabili. Dai successi senza tempo come Ti amo e Gloria, fino alle collaborazioni straordinarie e alle numerose hit internazionali, Tozzi ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica italiana e mondiale. Il tour L'Ultima Notte Rosa, The Final Tour, promette di essere un'esperienza unica nella vita, con oltre 30 spettacoli in location d'eccezione che toccheranno luoghi iconici in Europa, America e Oceania. Ad accompagnare Tozzi in questo viaggio epico ci sarà un'orchestra composta da 21 elementi, pronta a rendere ogni concerto un'esperienza indimenticabile. Tozzi ha collezionato una serie di successi record nel corso della sua carriera, da premi prestigiosi come il Golden Globe e nomination ai Grammy Awards, fino a essere protagonista in colonne sonore di film e serie TV di successo in tutto il mondo. La sua musica ha attraversato confini culturali e linguistici, toccando il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Il tour prenderà il via il 17 maggio a Malta, per poi proseguire in Romania e Italia, con date imperdibili alle terme di Caracalla di Roma il 20 giugno e in piazza San Marco a Venezia il 7 luglio. Seguiranno tappe in Francia, Germania, Bulgaria e altre destinazioni in Italia, prima di continuare in Svizzera, Belgio, Austria, Canada, Stati Uniti, Francia e Australia nel 2025. Non perdere l'ultima occasione di vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi, un'esperienza che rimarrà impressa nei cuori dei fan per sempre. E a te dispiace di questo addio? Faccelo sapere nei commenti!